ciao ragazzi sono sempre io rosario con le sue pistole ma oggi vi parlo del dtm da 1000 watt tre batterie da 12 volt 36 ampere e devo dire che va molto forte questo qui e fa 51 all'ora come potete vedere praticamente quasi uno scooter io tolto il sellino perché fa più figo vedete un po che che meraviglia della tecnologia conta chilometri poi vi farò vedere anche a quanto ammonta quanto arriva la chiave d'accensione in un bel parco ricordate che questo sarà il futuro ovviamente c'è il cavalletto anche con il sensore che quando il cavalletto è inserito questo è un sensore non fa partire nulla proprio per la sicurezza poi c'è le luci cagli stop stop a led freni a disco davanti e dietro vedete qua trazione a catena questo io l'ho fatto io per poterlo alzare perché ovviamente pesa 50 kg e rotti quindi insomma si può piegare qua c'è la maniglia sembra un freno a mano però si tira e si piega e si carica in macchina è un mezzo veramente fantastico ok in questa giornata meno male di sole queste fascette glielo ho messo io perché fa tipo farfalla che vedete fate perché credetemi ad accelerare non è non è semplice chiave si toglie ora vi faccio vedere il tutto di come si accende allora togliendo il cavalletto ora si inizia vi farò vedere queste sono le tre spie massimo medio e minimo livello della batteria ok ora guardate quando giro la chiave come potete vedere si accende a molta ripresa questo monopattino ma poi alla fine uno scooter quindi il bello è che ecologico ricordatevi fino a 500 watt di potenza non ci vuole la targa non ci vuole l'assicurazione e non ci vuole la revisione quando supera i mille watt di potenza e più di 500 watt di potenza il mo come motore ci vuole sia targa ovviamente libretto assicurazione casco e revisione ok quindi non sono giocattoli questi è qua ci sono le luci vi faccio vedere come premo il bottone accende la luce vedete luce accesa a led il clacson è come quello di una macchina praticamente ora vi farò vedere la prova su strada vabbè oddio adesso qua sono nel parco comunque è un mezzo veramente pazzesco ma soprattutto divertentissimo quindi mi raccomando fino a 500 watt come motore potete usarlo ovviamente in strada meno possibile perché comunque ancora non si può però non vi dicono niente l'importante è andare tranquilli ok questo ovviamente costa un bel po poi l'ho personalizzato io l'ho messo la targa route 66 ok frena disco e quant'altro dtm 500 watt è una bella storia ora facciamo la prova in strada bella lì e che con una mano non è facile questo pescatta molto velocemente quindi vi faccio vedere a quanto arrivo a 50 all'ora è ora provo ci prova ad andare perché non è facile poi questo scatta subito quindi proviamo ok siamo partiti ecco alle immagini non è che sono al massimo però molto difficile tenerlo perché qua ci si cade qua sono già 22 all'ora adesso qua c'è il sole ho deciso proprio un terreno non adatto questo può andare ovviamente dappertutto è però è ovviamente farvi vedere quanto fa non riesco comunque credetemi che va veramente forte comunque credetemi che 50 all'ora questo li fa tutti ok bella lì da ross e il suo dtm non lo fattino da 500 watt potentissimo ciao ragazzi